Tira diritto evoca antiche vicende. Io penso che certamente l'impegno a modificare delle regole del mercato del lavoro che puniscono i più deboli e che sono insostenibili non verrà meno. E quindi di fronte a chi si limita ad alzare barricate sull'articolo 18 il governo andrà avanti e fa bene andare avanti.